Jingle bell, jingle bell, jingle joy, pisell Che ho montato io, ho addobbato tutto Tutto a casa, ho fatto tutto io Era una sorpresa per i miei genitori Oh, che bello fare un video con lo sfondo natalizio Non è che si vedono, non è che... Però, bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Massimo, se te lo sei E sì, se sentite sto rumore, sta andando in col blu Perché sto studiando Mazzoni Oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza al Rolls Club di ieri Iniziamo bevendo perché... Se l'ho lasciata l'acqua Perché se no magari nel parlare muoro Muoro, volevo dire perché... Vabbè, lunga storia Allora, c'è questo bar che è un po' indietro a casa dei miei nonni Mi ha accompagnato mia mamma Ho portato il libro, c'è il libro, ciao L'album E le figurine doppie che avevo Altri pacchetti, altri pacchetti C'è fino a stasera il merda Comunque dicevo Sono entrato e... Magia Pieno di gente che scambiava foto... No, che scambiava figurine su figurine Regalava, finiva l'album Io l'album l'avevo finito E grazie a me l'ho fatto finire anche a mia nonna Ho chiesto un sacco, ciao mamma C'era un sacco... C'era anche un mio ex compagno di classe che saluto tanto, ciao E anche suo padre, ciao E... Ci siamo fermati lì anche a mangiare la... La pizza E... Poi abbiamo mangiato anche una mela Visto che era San Nicolò ieri E... Era etichettata... Ogni mela era etichettata da un alone Con scritto Brucelesti 1977 Con attaccarla la cover Che c'è dietro il telefono Che adesso vi faccio Vedere Molina Ok Ah no È vero che è frontale Guardate qua Che figata Sì ho preso la cover nuova giovedì scorso Cioè giovedì presto Scusate Si potrà spegnere il telefono Sì 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 Poi è una cover sproporzionatissima Perché i tasti sono molto più in basso rispetto alla cover Dicevo Abbiamo iniziato a scambiare queste figurine A regalare per chi mancava E ragazzi Qua Arriviamo Al fuoco Ragazzi Ebbene sì C'erano Quattro Giocatori Dell'Eco Uno era Alex Tantros Safaricas Che ti saluto Un altro Ahmet Fall Allora Safaricas è il portiere Fall Che è l'attaccante Ti saluto Ho fatto anche la serie sulle vostre figurine Vi saluto Ciao Poi c'era l'altro portiere dell'Eco Tipo il terzo Yusufi Ferhat Ciao E poi c'era anche Luca E poi c'era anche Luca Giudici Che dopo tipo 15 minuti Se n'è andato subito Non si sa perché sono rimasti tre Nello scambiare mi sono fatto autografare l'album Però porca la bocca L'ho lasciato dei nonni E allora ho iniziato a fare scambi commerciali E allora ho iniziato a fare scambi commerciali con Safaricas Perché aveva un album anche lui Però aveva tutte le figurine dall'1 fino al 100 Quindi 50 gliene rimanevano Cioè gliene mancavano Quindi ho iniziato a dargli quelle che gli mancavano E poi avendo anche le sue figurine doppie di Safaricas Me le sono fatte autografare Tutte e tre Sia quella con la faccia Sia la maglietta E sia quella fatta così Il rendimento carriera ormai Ovviamente non l'ho fatta Poi me la sono fatta anche autografare da Ferhat E poi anche da Fallo la sua maglietta E dopo di questo ci siamo messi a mangiare la pizza Insomma casi vari Che poi mentre mangiavamo la pizza Abbiamo chiesto a uno che si chiama Paolo Valagusta Che saluto Mia nonna ha chiesto Tutte le figurine che avevo Che mi rimanevano Se ci avevano un altro album per farlo completare Noi li avevamo finiti Poi sono andato a casa dei noni Sono stato a dormire Poi ho adobbato anche a casa loro per Natale Niente ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Perché sarà l'ultimo video riguardo all'ecco Magari Magari faranno anche album l'anno prossimo E l'ultimo video di quest'anno riguardo a figurine per il lecco Credo sia A meno che non ci voglio rispacchettare anche domani Io spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto lasciate un commento E un mi piace da Maglia di Ghisai Davide Oltramonti La Maglia di Procopio La Maglia di Vignati Nivo Cazzi Maffei Festa campionato col Murales E festa campionato con la squadra Io spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Noi ci vediamo al prossimo video Qui da Mastro 6 è tutto E saluto tutti Calciatori Amici Parenti Vediamo al prossimo video